Allora, ciao, ben ritrovati. È iniziato il calciomercato, il cosiddetto calciomercato senza soldi, perché davvero, a parte l'Inter che è l'esempio più eclatante di questo mercato dove veramente non ci sono tante risorse economiche, un po' tutte le squadre, non solo in Italia ma in tutta Europa, fanno fatica a trovare fondi per acquistare giocatori. Dunque si andrà di scambi, ci vorrà molta fantasia, è stato definito proprio il mercato della fantasia. Ti do questo, mi dai quell'altro, prestito con diritto di riscatto a determinate condizioni. Insomma, si dovranno inventare un po' di tutti gli operatori di mercato perché davvero soldi non ce ne sono. Pensate addirittura che uno dei più grandi calciatori del mondo, Lionel Messi, è libero. Da 24 ore, da poche ore, insomma, è libero, è scaduto il contratto col Barcellona, sarà rinnovato, non sarà rinnovato. Sappiamo tutti cosa è successo al Milan. Il non rinnovo del contratto di Donnarumma e Cialanoglu ha portato alla partenza due giocatori importanti che potevano creare una plusvalenza fuori dei rossi e neri, non da poco, soprattutto quella di Donnarumma. Insomma, soldi non ce n'è davvero. A parte gli arabi, il City, il Manchester City, a parte il PSG che sembrano disposti ad investire ancora. Insomma, per Achimi il PSG tira fuori di tasca 70 milioni di Euro, è uno degli acquisti più costosi della storia della squadra perigina, a parte Neymar. Davvero dovremo assistere a un mercato dove ci saranno pochi soldi e soprattutto in Italia, mi sembra di capire dai primi movimenti che si andrà di parametri zero, scambi, accordi, ti presto questo, mi presti quell'altro. Pensate, di ora, un simbolo del Napoli, insignia. Il capitano del Napoli, lo stesso da Laurentiis qualche ora fa, ha detto, ci incontreremo, non l'ho ancora visto, presto finito l'Europeo, incontrerò un insignia, ma vada come vada, cioè se non ci sta a determinate condizioni non c'è problema. Di contro, ad esempio, il calcio dice che Kolarov, giocatore dell'Inter, che era ormai fuori rosa, scadenza di contratto e prendeva 3 milioni di Euro, ha deciso di restare all'Inter abbassando lo stipendio, il compenso del 50%, a un l'uno e mezzo. Dunque c'è anche questa parte buona del calcio. Ci sono giocatori invece come Borca Valero, simbolo della Fiorentina, ha lasciato la sua casa di Madrid, ha venduto la casa di Madrid, si è stabilito a Firenze, perché ama Firenze, ama i cittadini fiorentini, però non ha ricevuto proposte per continuare e ha deciso di lasciare il calcio. Dunque è veramente un mercato particolare dove i soldi sono veramente pochi e vedremo cosa succederà. Per quanto riguarda l'Inter sapete che io ho un po' questo tarlo, spesso vado paralleli alle azzurri, la situazione è una situazione un po' strana, un po' particolare, perché pare che alla fine l'unico giocatore il big che lascerà in azzurri sarà appunto Achimi, non Lautaro, soltanto Achimi, però poi un giorno vogliono comprare lo stadio, un giorno vogliono comprare il Domino Milano con la Madonnina, l'altro giorno invece vogliono vendere tutto, non vogliono comprare nessuno. È una situazione un po' particolare e ovviamente pesa sul bilancio dell'Inter i non incassi da stadio, da botteghino che non ci sono stati l'anno scorso per via dalla pandemia e tante altre situazioni, come pesano sulle casse di molte società italiane, lo stesso Laurentiis l'ha messo, l'ha detto, eh signore qui c'è poca tripa per gatti, lui stesso ha chiesto al Premier Draghi di posticipare l'inizio del campionato, non il 20 di decosto, magari anche solo di 15-20 giorni per avere la piena affluenza degli stadi e incrementare quelle che sono gli introiti da parte delle società che attualmente vivono soltanto dei diritti del calcio, un po' poco per competere con i grandi club arabi per poter far fronte agli ingaggi di questi giocatori.